A castello o del silenzio, e mi vede anche te, e già sento che anche tu volerai. E chissà che volerai, sono un po' gli occhi miei, e il mondo la sua luce mi avrà. Io amo, 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 oh 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per l'invito di Massimo Manzolino, presente nel giornale dei Power Boys, di Daniele, del tour di Padre Giovanni Rosario. Grazie, sono a disposizione per voi e sono un oggetto nelle mani del Signore. Grazie a tutti. Grazie a Giglio e ai Musica Storia che ci hanno dato offerto questo donno questa sera. Io devo anche chiedere scusa per loro e ai Musica Storia e agito. Non per colpa nostra, quando ci sono i risconi di mezzo.